PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP mio ingegno devo agguzzarmi per trovare le risposte che cerco i treni sono belli o sono brutti oggi lo scopriremo insieme perchè giocheremo con carlo perciò lascio un like ora entro 3 secondi se no il trenino carlo ti carlinerà e se volete evitare di ritrovarvi un ragno carlo in casa scrivete tutti sotto nei commenti benvenuti su cancelliamo il disegno di carlo 3.54 ragazzi la nuova versione di questo gioco dove posso fare le cose belle tipo che è sta musica orribile togli lo scopo è quello di cancellare il disegno per completare i puzzle qui che cosa devo fare che devo cancellare nooo carlo non sorride carlo è malvagio troppo bello sto gioco non vedo l'ora di vedere cose strane che appariranno in questo gioco ok allora ci abbiamo il treno carlo che vuole killare il povero pino il minatore che è stato tutta la giornata a minare nelle miniere ovviamente ed ora verrà mangiato da no non verrà a mangiare no non verrà a mangiare mitraglierà carlo quindi non è pino il minatore è pino il mitragliatore insomma ci sono tanti pini ma diverse categorie ok trova il mostro sarà dentro l'uovo il mostro mi sa di si quello è carletto non carlo è carletto quello dei suoi officini insomma vai allora aiutalo a stare al sicuro ragazzi come faccio a stare al sicuro da carlo carletto dei suoi officini e devo eliminare i binari no carlo poverino ma i ragni sono creature incomprese possede via io ho il raid alla vaniglia no ok è delorante comunque il prossimo livello è trova la strada per ciucucarletto il nostro ciucucarletto non sa se andare a destra o a sinistra bene questo è falso e quello è vero oh ora ma che è una miniera d'oro ma loro davvero questi qua minavano per ricevere i sordi ragazzi in realtà quello è tutto il tesoro di carlo cioè quello è tutto il tesoro di inghilterra ok prossimo vai avanti tutti possono vedere il nome della tua foto del tuo account google no aiuta carlo a passare attraverso allora se c'è una cosa che i treni odiano pesantemente sono i passaggi livelli perché me lo chiudete sto passaggio livello devo passare ah ok devo eliminare pensavo di eliminare il passaggio livello invece no prossimo attenzione qua ci abbiamo una carletta anche chiamata charla in inglese il nostro scopo è quello di attirare la sua attenzione beh che complimenti possiamo fare ad una trena hai una bellissima carrozzeria ok ok no che complimenti posso fare attira la sua attenzione che devo fare non ho capito che ho fatto ma basta che adesso faranno i carletti piccoli e vai ma che emozionanti queste storie di livelli a parte questo rivela il segreto guarda io so qual è il segreto è un Carlo devo cancellare questo ok cancella questo ma che senso ha avuto vabbè non facciamoci domande andiamo avanti no il povero Pino che è il figlio di Pino lui è Pino Junior che ha come trenino non è Tommaso il treno ha come trenino carletto ok perché piange adesso indoviniamo perché perché in realtà non è un semplice Tommaso il treno cioè tu mi stai dicendo che questo Pino è talmente psicopatico che voleva un piccolo carletto come treno ok non facciamoci domande ragazzi questo gioco è stupendamente bellissimo prossimo girare la situazione ragazzi quello è un anche Wuggy anzi un anche Wuggy un po' strano Viola che devo fare girare la situazione ah perché lui c'era il cervello e adesso non ce l'ha più il cervello ok non aveva senso ragazzi lo so attenzione smettila di Ciu Ciu Charles ok quindi devo salvare il Pino il grande Pino il grande come faccio a salvarlo ah elimino la trave di sospensione e ora abbiamo scacciato il ragno scacciato e schiacciato vabbè ma è prossimo è troppo strano questo treno perciò hanno mandato una persona ad indagare prepotentemente hanno mandato Gino finiscono tutti i Nino Pino Gino Carlino insomma eccolo qua dov'è il ladro perché c'è un ladro un ladro che si nasconde dentro Carlo cioè ma io vorrei avere il fegato di questo ladro mamma mia e dopo Wuggy abbiamo Rainbow Friend blu anzi no pink e blu blu pink insomma qualcuno sconfiggi in blu d'accordo che lo sconfiggo ah il sole il sole vai sciogliti e vabbè e vabbè ma quanti colpi sta dando Carletto vai avanti tutto questo Tommaso non l'ho visto salvarlo ah cioè salvalo ragazzi la traduzione è salvalo non salvarlo ma chi devo salvare dei due non lo so salviamolo ah è un jetpack ok ma che cosa sta succedendo va bene vai avanti gatto reale abbiamo un gatto con il pesce o il gatto non è veramente un gatto o il pesce non è veramente un pesce ma che è Beerus ma è Beerus di Dragon Ball ma dove è Carlo in tutto questo il segreto nascosto dietro al casco attenzione abbiamo poppy playtime adesso ok la mia paura è poppy playtime no essere pelato poverino non è poppy playtime è gnie gnie playtime ragazzi Freddy sta puntando il ferro contro un tizio strano che è un maranza cioè questo è un maranza invertire la situazione e come inverto la situazione guardate fa pure il gesto italiano è proprio un maranza aspetta allora come faccio a invertire la situazione cancella la pistola cosa devo cancellare ah il pavimento no Freddy che brutta fine che hai fatto spaventala mi scusi signorina ma c'è un ragno ah ok se era un ragno normale tutta posto tranquilla ma io sono curioso di una cosa no non si può fare non si può fare andiamo avanti così ragazzi scusate scusate questa ragazza ha molta paura dei ragni solo dei ragni io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e nulla iscriviti al canale se non l'ha ancora fatto senza cliccare di pollice in su quali mostro lo esiste è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video eeeh ciao iscriviti al canale